Responsabilità, responsabilità, una parola che il dizionario spiega così, capacità di rispondere dei propri comportamenti rendendone ragione e accettandone le conseguenze. Allora mi piace fa riferimento a una guida che Union Camere ha intitolato Il lavoro non cade dal cielo ed è rivolto ai ragazzi delle superiori. Sentiamo cosa dice l'incipit di questa guida. I circa 450 mila giovani che escono dalla scuola superiore hanno tre strade, l'università, i corsi professionali avanzati post diploma o entrare nel mondo del lavoro. È una scelta complessa e nulla può essere lasciato al caso. Non ci si può improvvisare. Ognuno, ecco la parola magica, è responsabile delle proprie azioni. E allora come fare? Guardiamo in tre modi diversi. Guardiamo senza farci disorientare dalle difficoltà di ogni giorno. Guardiamo le realtà. Cosa chiedono le aziende? Quali sono i corsi che mi propone il sistema formativo? E poi guardare dentro di sé? Quali sono le mie capacità? Ecco spiegato il termine responsabilità.